legato il suo nome a quello della squadra nerazzurra, il giocatore che è al terzo posto di questa top 11. È Beppe Baresi, un giocatore poco celebrato ma molto apprezzato da addetti ai lavori e tifosi. Lavoratore serio, onesto, è stato un difensore che concedeva poco alla spettacolarità, ma molto concreto ed efficace nelle entrate. Baresi aveva nell'abnegazione tattica e nella serietà professionale le sue qualità migliori. Anche lui, come Facchetti, una bandiera della squadra nerazzurra.